Grazie a tutti! Come vedete il record della manifestazione della pre-percorsia 4 adesso Alessandro Amigalessi nella passata edizione 47 e 5 al 1 Alessandro Amigalessi 22.9 al passato Alessandro Amigalessi 23.06 e la carica 23.28 per torrenti e sono gli ultimi 25 metri della prima serie 100 sui metri per torrenti e nel consiglio al quarto vince il cuore 47.34 Gli odono il suo stesso record Alessandro Amigalessi e abbiamo un ruolo a centordo a Portorino a Milano Amigalessi 19.30 a tempi dei corsieri confermati Gli odono il suo problema per il perlomeno la classifica ufficiale in Punta di Sede vince con i ricordi della manifestazione a 47.34 Alessandro Amigalessi sul podio e una ragione tra Portavio Fardini alla partenza della partenza